Ripa Limosani è tra i comuni molisani più attivi nell'ottica di diventare paese cardioprotetto. Quest'estate la parrocchia guidata da Don Moreno Ienti Lucci con la collaborazione di Comune Croce Rossa ha organizzato un corso aperto a tutti per capire e imparare come quando si utilizza un defibrillatore. Dopo che una famiglia ha voluto donarne uno proprio alla parrocchia, Ripa Limosani ne aveva già due, quindi fare un corso diventava una cosa logica e necessaria, ha spiegato Don Moreno. Ieri per la solennità di tutti i Santi al termine della Messa delle Undici è stato consegnato ufficialmente alla comunità e al Comune il defibrillatore e sono stati consegnati i diplomi a coloro che hanno seguito questa estate il corso per imparare a usarlo. Intanto in paese da oltre cinque anni la Chiesa Madre è chiusa per i cittadini punto di riferimento religioso ma anche sociale. È nato un comitato che si sta adoperando affinché la Chiesa di Santa Maria Assunta riapra al più presto. Il sindaco Marco Giampaolo si è schierato con il comitato abbracciandone la causa. Sono inaccessibili, ha scritto in una nota, anche tutti i locali annessi, da sempre luogo di catechesi e iniziative per giovani e bambini. L'assenza di questo punto di riferimento è una grande piaga per tutti noi. Il sindaco ha spiegato che nel 2016 l'edificio è stato chiuso per importanti lesioni strutturali, a differenza del campanile che di proprietà comunale la Chiesa appartiene alla Curia e per la ristrutturazione oggi occorrono somme ingenti che vanno ben oltre il milione di euro. Il dialogo con le istituzioni è costante a tutti i livelli e ha sottolineato Giampaolo da subito è stato redatto e illustrato il progetto di ricostruzione. Don Moreno Ienti Lucci si sta muovendo per reperire fondi attraverso canali ecclesiastici e non solo e il comitato ha anche inviato una lettera al Papa dopo quelle mandate dal precedente sindaco Michele di Bartolomeo e dallo stesso Giampaolo negli ultimi due anni. Ben vengano azioni popolari per risolvere il problema, ha concluso il sindaco, ma non scadano mai in tristi e puerili strumentalizzazioni.